22 dicembre 1971. Nasce Medici Senza Frontiere. Fondata da medici e giornalisti a seguito delle drammatiche emergenze umanitarie in Biafra e Bangladesh, l'organizzazione si propone di portare soccorso sanitario e assistenza umanitaria in quei luoghi in cui il diritto alla cura non è garantito, denunciando e raccontando i contesti in cui opera. Divenuta verso la metà degli anni Ottanta un'organizzazione internazionale, Medici Senza Frontiere è oggi attiva in oltre 80 paesi, contando circa 65.000 operatori al proprio servizio. Il prezzo di 1999 Nobel di Peace Prize è accaduto a Medici Senza Frontiere. Nel 1999 riceve il premio Nobel per la pace, in riconoscimento del lavoro umanitario pioneristico realizzato in vari continenti.